Eccoci con Isofi e Pascucci, due giocatrici per lo Sporting Latina. Un commento su questa bella vittoria, sentita più che altro da quello che vedo, Isofi. È stata una partita molto intensa, l'abbiamo sentita tutte. Sono giorni che abbiamo l'ansia, ma non l'ansia che la partita vada male, ma l'ansia perché ci sono state anche giocatrici che hanno giocato con noi l'altro anno. È stata una partita abbastanza tosta, ma ce l'abbiamo fatta all'ultimo. E quello è l'importante. Quello è l'importante. Senti Pascucci, quindi quasi un derby questa sfida, l'importante era proseguire con i buoni risultati che avete fino adesso. Cosa hai visto di buono quest'oggi e cosa magari dovete ancora migliorare? Forse è un po' più decrinta. Siamo entrate secondo me con, non lo so, con troppa convinzione magari. Forse. Effettivamente questo è vero. Più che altro io ho visto che una formazione ha creato molte azioni, però ha concluso davvero poco. Forse questa è una cosa che dovete migliorare durante la settimana. Non so se siete dello stesso avviso. Certo. Abbiamo avuto mille occasioni, ma di cui una sola entrata. Senti, l'ultima domanda, però voglio fare più che altro sull'andamento della vostra stagione e un po' quello che è l'obiettivo finale. Che cosa vi siete più vissati? L'obiettivo nostro è vincere. Vincere il campionato. Non ci stanno altro che vincere. Vincere il campionato. Quindi ok. Vogliamo vincere e vinceremo. Vincere e vinceremo. Senza nascondersi. Senza nascondersi. Vi faccio ancora i complimenti per oggi. Senza di paura di nessuno soprattutto. Quello sempre. E un bocca al lupo per il continuo. Grazie mille. Grazie mille.